se voi siete qui perché avete scelto i suoi salvi in chiesa se voi siete innamorati l'uno dell'altra c'è la base, l'amore di Dio o è l'amore che è alla base di tutto perché effettivamente l'amore è un qualcosa che noi vediamo e di conseguenza lo interiorizziamo il nostro cuore e lo viviamo poi in questo caso tra voi e due grazie a tutti